Il prossimo, diciamo, la prossima opera Bonelli, insomma, si chiamerà Orfani. Di cosa si tratta? Quando uscirà? È un altro fumetto di fantascienza, è un fumetto ambientato in un, come dire, immediatamente prossimo futuro. Dove, diciamo, come dice la pubblicità, la fine del mondo è solo l'inizio. Non è però un fumetto strettamente catastrofico, diciamo così, o post-catastrofe, no? In realtà si occupa d'altro e non posso dire neanche tanto perché è una serie che contiene veramente uno sviluppo narrativo interessante con dei importanti colpi di scena, quindi mi piacerebbe che si scoprisse leggendola, però certamente è un passo in più verso, diciamo così, la modernità, l'attualità e anche un passo in più da un punto di vista tecnico per noi perché sarà il primo albo fumetti che noi produciamo integralmente a colori. Anche qui la tecnologia ha fatto passi da gigante e quindi ci possiamo permettere una serie di operazioni che in passato avrebbero richiesto costi e tempistiche inaccettabili per il nostro tipo di fumetto popolare mensile. Oggi invece si può fare molto di più in maniera diversa e quindi facciamo questa scelta sperando che anche questo sia qualcosa che il nostro pubblico apprezzi, insomma, e possa amare, diciamo, in questa nuova serie. Grazie.